Due pistole semiautomatiche e alcune cartucce sono state trovate dai poliziotti della sezione volanti all'interno di un casolare abbandonato situato sulla strada litoranea nord di Brindisi nei pressi di località Apani. Una pattuglia si è imbattuta nelle armi nel corso di un servizio di controllo del territorio. Le forze dell'ordine hanno setacciato vari casolari fino a quando non hanno individuato quello utilizzato come deposito di pistole. Si tratta di una 8 mm modificata di fabbricazione tedesca e di una PPK calibro 8 sempre modificata, entrambe funzionanti e poi come si diceva c'erano diverse cartucce di diversi calibri. L'obiettivo è capire ora da parte degli investigatori cosa ci facessero lì quelle armi, per quale motivo erano nascoste in quel casolare e soprattutto chi avrebbe dovuto farne uso.